Siamo? Adesso ci siamo! Ok, scusate ragazzi, mi hanno detto che non era partito la diretta e lo so perché. Ragazzi, bionda americana, io mi stavo parlando da sola da circa sette minuti, vi voglio bene, scusate il mio ritardo. Ci siamo, la diretta è a... fammi chiudere questa, ok, la diretta sta andando, ok, ci siamo, ci siamo, scusate, grazie Alessandro. Ok, ragazzi, ho spinto la registrazione anziché la diretta, ragazzi, e questa è la bella della diretta. Allora, ripartiamo tutti, ben arrivati, prendete un elastico, non vi preoccupate perché io andrò, cioè, sforerò dall'altra parte, così avremo sempre le nostre ore tutti insieme, perché io stavo andando proprio ricamente avanti, stavo registrando, però un elastico perché andiamo a fare intensity, e intensity è un gioco di intensità fatto di spinto di volo sul trampolino, ma anche con l'elastico che useremo per le braccia, per le gambe, per i glutei, per l'esterno cosce. Così vi do ancora un minuto di andare a prendere un elastico o un fusò, o magari qualcosa che può legare le gambe, ma quando avete dei fusò e andate a legare le gambe, mi raccomando, la parte rimanente del fuso stesso, della gamba del fuso stesso, la devi far entrare nel torciglione intorno alla vostra caviglia. Quando stiamo lavorando ti darò tempo di legare le gambe, e quando leghiamo le gambe con l'elastico la cosa importante è di fare un fiocco a posto di un nodo. Chiaro? Perfetto. Allora, noi andiamo, mettiamoci in sella, ok, sono 18.05, riparto. Scusate, ve lo bello delle direte proprio questa. Ok, rimetto la musica e andiamo a riniziare le nostre lezioni di intensity. Sarebbe bello essere perfetti, però è anche bello essere perfettamente perfetti. E ricordate che l'allenamento ci aiuta sempre ad essere di più di noi stessi. E spingo, 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 e le braccia vanno verso su, chiudo, spingo, 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 tre, due, apro, quattro, tre, due, e chiudo, quattro, tre, due, singolo, apro, chiudo, in volo. Il volo è leggero, la spinta è in attività. Di nuovo facciamo otto, spinta, e volo su, rimango qua. C'è una differenza? Spinta, braccia vanno su, vanno su, vanno su, e vado, ci siamo. Di nuovo, quattro, tre, due, volo, 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 quando mi piace il trampolino, ultima volta, quattro, tre, due, volo, volo, due, tre, ok, prendiamo l'elastico ragazzi, rimanete in salto, respira, e teniamo la prima posizione, la seconda posizione è un po' più corta, la terza posizione è ancora più corta, in prima posizione, allarga, tenendo l'elastico sempre in tensione, chiudo, ora apro, chiudo, e la facciamo quattro tempi, facciamo quattro spinta con le gambe, e chiudo, e apro, spinta, 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 e chiudo, e vai, singolo, 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 singolo ancora, stiamo solo riscaldando ragazzi. Ultima volta, e l'elastico va dietro la schiena, sotto le scelle, e lo spingeremo in avanti, e la cosa bella è questa, che ognuno può allungare o pulciare l'elastico come vuole, per renderla più facile o più infinitivo. Braccia giù, ci siamo, spinta in avanti, torna indietro, spinta in avanti, torna indietro, guarda l'elastico, non deve mai essere morbido, devi sempre essere in tensione, ci siamo, dammi singoli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, rimangono avanti, incrocio la braccia, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, spinta, 1, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, incrocio, vai, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, and relax. Ricordate che durante la lezione, ti chiederò di passare da una posizione all'elastico, anche velocemente per le braccia, ma con le gambe di vero tempo. Adesso facciamo un po' di prove con le gambe, faccio un fiocco, ok mettetevi un fiocco sotto, fiocco, fiocco, se ce l'avete il fuso, dopo che avete fatto il fiocco, con i pezzi che ti avanzano nelle gambe, lo metti sotto l'elastico per far sì che nulla che ti potrebbe fare inciampare, occhio, piccola marcia, 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 guardate le ginocchia, le ginocchia vanno in avanti dove c'è il dito meglio del piede, questa è una lezione pazzesca perché ci aiuta veramente a lavorare, gluteo, esterno, coscia, interno, coscia, ed è fantastico l'odore per questo perché fai tutto, ti stai, faccio un lavoro aerobico tonificante insieme, occhio, apro 8, spingo, occhio, quando chiudi attenzione e controlla l'elastico perché c'è una tetta fionda, piccola apertura, genocchio frontali, piccola chiusura, devi controllare tu l'elastico, andiamo 4, 4, 3, 2, chiudo, 4, 3, 2, 2, 2, 2, controlla, controlla, ok, non permette l'elastico di chiuderti le gambe, 4, 3, facciamo singoli, andi, vai, vai, ancora, vai, vai, ok, relax, eccellente ragazzi, siamo pronti, siete caldi con la gamba destra, andiamo in apertura e 8, vai, one step, touch, chiudo, chiudo e spinta, spinta, spinta e sinistra, vado, uso le braccia per spingere, spingo, spingo, me ne date in 4 tempi, 4 e 4, 4, ci siamo, 4, vola, 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 in scarico, proprio questo è volo e dopo, prima c'è spinta, poi c'è volo, venite in avanti, 4 in avanti, 4 indietro, 4 in avanti, 4 indietro, ci siamo, 4 in avanti, 4 indietro, me l'ho fatta in 2, 2, 2, 2, back, 2, back, 2, back, 2, back, e tutto da capo, venite di qua, venite di qua, la facciamo 4, 4 in spinta, poi, nostro avanti e indietro con il nostro scarico, apri, 4, 3, 2, 1, vai, 4, 3, 2, 2, 1, vai, ancora, 4, 3, 2, 1, vai, ora, 4, 3, 2, 1, vola, 2 in avanti, 2, vai, 2, vai, 2, vai, ancora, ancora, 2, 2, ci siamo? Bello semplice, prendiamo l'elastico e va sotto la nostra ascelle, facciamo il passaggio con le braccia, prendiamo le braccia, spinta e volo rimane uguale, ma usiamo adesso le braccia, alzate i gomiti e chiuditi qua, ci siamo, 5, 6, apro destra, 4, 3, 2, 1, vado, 4, solo la destra, ancora, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, vado, dammi 2, 2, 2, 2, destra, 2, 2, torno, centro, 2, 2, 2, e vado, 2, 2, torno, in avanti, bravi! Ok, adesso prendiamo l'elastico, tutti quanti, e scendiamo giù, leghiamo le nostre caviglie, ci siamo? Tutti quanti, proprio legate le vostre caviglie, e divarica poco a poco anche l'elastico sulle gambe, per essere sicura che non ti sega la gamba, ci siamo? Ricordate se state utilizzando il fuso, li farlo chiudere, dentro, ci siamo, 5, 6, elastico, 7, 4, 3, 2, 1, chiudo, ci siamo, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, e 4, 3, 2, 1, Gambe larghe, 2, 2, 2, 2, 2, destra, 2, 2, torno, centro, 2, 2, 2, 2, e rimango, ci siamo? Occhio, qui, rimango qua, ma rimaniamo laterali, ok? Avete la spalla destra verso la nostra televisore, o verso scherzo, ci siamo, andiamo in jumping jack, 8, apro, 8, chiudo, 8, 8, jumping jack, ci siamo, di nuovo, 8, ci siamo, occhio, chiudo, 8, occhio, andiamo su surf, facciamo, 4, 3, 2, 1, 4, indietro, e se surf, Questo è il volo, volo, ci siamo, 4, 3, 2, 1, back, andiamo ancora 1, 4, 3, 2, 1, back, davvero in 2, faccio, 2, ancora, 2, ultima, 2, rimango, di nuovo, 2, gireremo, ci siamo, pronti per girare, giri qua, occhio, gira, 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 jumping, jumping jack, 4, chiudo, ancora, Jumping jack, 4, chiudo, ancora, jumping jack, 4, e chiudo, ultima, jumping jack, 4, occhio, dammi 4, 4, 3, 2, 1, back, ora, 4, 3, 2, 1, back, dammi 2, 2, 2, 2, 2, 2, ora torno in centro, tutto da capo, Apro, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, volo in avanti, 2, back, giri, destra, 2, back, giri, frontale, 2, back, giri, Sinistra, 2, rimango qua, vado in jumping jack, spinta, 4, 3, 2, 1, 4, ancora, 4, 3, 2, 1, 4, ancora, 4, spingo, 4, spingi con le gambe, intensity, occhio, Su 4, faccio, 4, 3, 2, and volo, uso le gambe, 4, 3, 2, 1, volo, dammi 2, 2, up, ancora, 2, up, giri, jumping jack, gira, dammi 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, spingo, 4, 3, 2, surf, 4, 4, 3, 2, 1, back, 4, 3, 2, 1, back, dammi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ultima volta, torna in centro, vai, prendi l'elastico, eccellente, portiamo i primi due blocchi fino a qua, ci siamo? Come va? Ci siamo? Fa grande, grande, grande energia, passa indietro la schiena, ci siamo, it's five, and apro, 1, 2, sinistra, spinta, 1, 2, destra, ancora, 1, 2, come on, good boy, 1, 2, ci siamo, avanti, volo, back, volo, Destra, volo, back, volo, frontale, volo, back, volo, occhio, adesso porta l'elastico in avanti, jumping jack, apro, 4, 3, 2, 1, chiudo, vai, 4, 3, 2, 1, chiudo, 4, 3, 2, 1, chiudo, spinta con quelle gambe, spinga, spinga, occhio, 4, 4, 3, 2, 1, back, Apro, 4, 3, 2, 1, back, dammi due, 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 and gira, 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 jumping 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, and 4, 3, 2, 1, chiudo, jumping 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, Ottima, 4, 3, 2, surf, 4, 4, 3, 2, 1, back, tira, sinistra, tira, destra, back, dammi doppio, 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 torno centro, vai, stop, legate le gambe, respira, Ricordate, facciamo un bel piocco, mamma mia, come ti riscaldano un trampolino, a terra è difficile essere così riscaldato, per questo mi piace, ti fa sudare, ti fa proprio scaricare, ti do tempo di proprio legare le vostre gambe, Perché voglio che tutti quanti partino insieme, ci siamo, ci siamo, 5, 6, 7, apro 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Ricorda che le gambe deve essere tese e parallele, 2, 2, 2, 2, giro, destra, vado, 2, 2, controllo l'elastico, torno fronte, 2, 2, 2, sinistra, 2, volo, volo, ora spinta con jumping 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, ultima, 4, 3, 2, and 4, surf, 4, 3, 2, 4, ancora, 4, 4, andiamo in 2, 2, 2, 2, 2, ancora, 1, gira, 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 and 4, 3, 2, 1, chiudo, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 2 volte, 4, 3, 2, 1, chiudo, ultima volta, lo senti, occhio, 4, 4, 3, 2, 1, up, respira, 4, and up, dammi le 2, 3 volte, su, 2 volte, su, ultima volta, and gira in avanti, liberi le gambe, occhio, senti come ti aiuta proprio i glutei, è meraviglioso, ok, liberi le gambe, poi portate le gambe destra in avanti, in sci di fondo, scendo and pompa, 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 ok, ci siamo, facciamo, 8, 7, guarda che faccio, tengo la destra qua e farò un knee up con la sinistra, 1, 2, 3, 4, rimango, ok, la cosa importante è che questa gamba davanti non salta, spinge, 2, 3, 4, perché quando andremo a legare le gambe dovremo avere tanto controllo, 4, 3, 2, 1, giù, ci siamo, dammela ancora uno, and su, 2, 3, 1, 4, 3, cambia gamba, dammi prima, piatto, 2, 3, and ginocchio, 4, 3, 2, 2, spinta, 4, 3, 2, and ginocchio, ci siamo, e slalom, slalom in centro, ok, slalom in centro, gambe abbastanza parallele, e me le fate 4 a destra, 4 a destra, 4 a sinistra, 4 a destra, e 4 dammi in due tempi, 2, 2, 2, 2, 2, siamo pronti per i singoli, e pensa quando ci avrai le gambe legate, e voglio che giri, 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 ok, di nuovo con la destra, facciamo, 4, 3, ginocchio, su, su, lo riconto, facciamo, 4, 3, 2, 4 ginocchio, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ginocchio, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, ancora, spinta, 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 ginocchio, 4, 3, salto con il singolo primo di labbra, giro a sinistra, vai, 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 4, 3, 2, and relax, come va ragazzi, ci siamo, facciamo tutto da capo, avvicinatevi alla sinistra, andiamo, primo movimento in apertura, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, vado, 4, 3, 2, 1, vado, e spinta, 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 pronti per volo, due avanti, due avanti, due indietro, due avanti, giri destra, due avanti, due indietro, torno, centro, come on, come on, grande, grande, gira, vado, vado, Jumping jack, 4, apro 4, chiudo 4, ancora, apro 4, chiudo 4, ancora, spinta, 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 chiudo, ultima volta, spinta, 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 chiudo, 4, surf, 4, 3, 2, 1, 4, ancora 4, vai, respira, dammi in due, due per tre, due per due, Giri, lato, vai, jump in 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, e in 4, spingo, senti quelle gambe che lavorano, spingo, ultima volta, 4, pronti per la nostra surf, 4, 3, 2, 1, su, 4, 3, 2, 1, su, dammi in due, due, su, due, Su, torna centro, occhio, qui, spinta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, ginocchio, su, 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 spinta, 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 ginocchio, su, su, salto di qua e gira, vai, 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 4, 3, 2, Giù, cambia gamba, 4, 3, 2, ginocchio, 4, 3, 2, spinta, giù, 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 4, 3, 2, salto a sinistra, vado, 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 preparate l'elastico, ci siamo, occhio, andiamo, ci siamo, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, Vado, ancora, 4, 3, 2, 1, chiudo, spingo, spingo, 4, 3, 2, volo in avanti, 2, 2, 2, back, 2, destra, 2, back, in avanti e di nuovo, 2, back, gira, sinistra, jumping jack, portabraccia in avanti l'elastico, vado, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ultima volta, 4, ci siamo, andiamo in 4 qua, 4 indietro, 4, ancora, e spingo, 4, dammi 2, 2, 2, up, 2, up, 2, e gira in lato, pa, pa, dammi 4, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4, ancora, 4, ci siamo, 4, ultima, 4, occhio, 4 giù, and 4, 3, 2, 1, 4, ancora, 4, 3, 2, 1, 4, dammi 2, 2, up, 2, up, turn in centro, occhio, chiudo, 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 tira, 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 and knee up, 4, 3, 2, 1, and tira, 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 knee up, singoli, vai, 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 4, 3, 2, 1, ancora, salta, 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 4, 3, 2, ci siamo, 1, 2, 3, 4, and 4, 3, 2, 1, sento le braccia, 4, 3, 2, e salta, 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 come on, 4, 3, 2, di nuovo, dammi salti, 8, sento le spalle come stanno lavorando, 4, 3, 2, lega le gambe, tutti giù, ok, andiamo, facciamolo bello, fiocco, 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 ci siamo, video tempo, venite a sinistra, ci siamo, con le gambe legate, andiamo, 4, 3, 2, 1, chiudo, 4, 3, 2, 1, chiudo, Ancora, grazie i sorrisi che state facendo un lavoro, pazzesco, spinta con quelle gambe, spingi, ma guarda il controllo, ok, lascia le braccia, guarda le gambe, controllo, le gambe, destra, indietro, centro, vado, vado, sono in volo qua, mi torna in spinta con il jumping jack, ci siamo? Apri, 4, 3, 2, 1, 4, dai ragazzi, 4, 3, 30, 4, ancora, ancora, 4, push, ultima, 4, lo senti sui glutei, 4, 4, 3, 2, 1, 4, ora, 4, 3, 2, 1, 4, 2 per tre volte, 2, bang, 2, bang, 2, jam, pass, 4, 4, jumping, chiudo, 4, ancora, 4, spingi, ponte in avanti, classico, sempre in tensione, chiudo, ultima volta, si, si, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 4, ancora, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 2, 2, up, 2, up, 2, up, 2, torna in centro, prepara la destra indietro, 4, 3, 2, ginocchio attento, 4, 3, però più concentrazione indietro adesso, 4, provi di pensare di stenderli indietro, e 4, attenzione, salto tenendo l'elastico sempre in tensione, vai, vai, controllo, controllo, sto controllando, ci siamo? senti come si, infiamano i glutei, sinistra in avanti, facciamo, 4, 3, 2, ginocchio, 4, 3, 2, di nuovo, and, spinta, 2, piccole, piccole, piccole con knee, knee, giù, knee, giù, knee, giù, singoli, and, salta, gira, senti come si lavorano quei glutei, vai, e senti come si lavorano, salta, 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 non fermarti, non fermarti, 4, 3, 2, and relax, come, vi piace? allora ragazzi, dobbiamo fare tutto di nuovo con le braccia, con le gambe, e in volo, tutti insieme, ci siamo? ok, elastico, in prontezza, facciamo, 1, ancora, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ottima, usa le braccia, volo in avanti, 2, back, 2, destra, giro, 2, back, in avanti, centro, 2, back, sinistra, 2, porta l'elastico, in avanti, jumping, 4, 3, 2, 1, 4, 4, spinta con le gambe, all'argo con le braccia, spinta con le gambe, spalle basse, respira, occhio, 4, 4, 3, 2, back, destra, sinistra, dammi 2, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, e cira, 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, respiro, 4, chiudo, ancora 2 volte, 4, chiudo, ottima, 4, pronto, big, 4, serve, in avanti, sinistra, indietro destra vado destra, destra, due due, back due, back accorcia la presa occhio, diamo otto nial tiro con quella elastica ancora piccola tira, piccola tira tirate, tirate, ginocchio ginocchio vai, salta teni in l'elastico in tensione, tira con quell'elastico tira, tira continui, otto sette, sei, cinque ci siamo, prepara dall'altra parte, andiamo otto, sette, sei, cinque quattro, ginocchio quattro, tre due, uno, vai tira, tira, tira ancora salta dall'altra parte sinistra l'elastico sempre in tensione vai vai gira, gira gira, gira ci siamo ci siamo oh sì oh sì quattro tre due relax ok legate le caviglie fatevi un fiocco bello fiocco ti aspetta, tranquilli la cosa importante è che hai una bella presa sull'elastico sei tu a controllare l'elastico ok devi fare un bel giro di gambe e glutei ricordate i ginocchio che sono sempre in avanti puntando il dito medio del piede ci siamo five six quattro spinta vado chiudo spinta chiudo ancora spinta chiudo ottima spinta ok con il volo molto tranquilli due avanti due indietro gira destra due avanti due indietro torno frontale due avanti due indietro vado sulla sinistra due avanti due indietro jumping jack spinta spinta chiudo chiudo apro vai ancora due volte spinta quattro chiudo quattro spinta quattro pronti per serve quattro four three two one four ancora four controllo le gambe and spingo due up sinistra destra ok cambio lato jumping jack quattro four three two one uso anche le braccia così aumenta l'intensità questi schiame intensity per un motivo e vado la senti oh yeah grandi grandi sorrisi e quattro tre due uno quattro 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 dammi due due ok quando torniamo al centro qui ragazzi torniamo al centro occhio spinta quattro tre allora l'azienda indietro indietro due tre quattro spingo due tre spinta 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 larga e tira sull'elastico senti proprio come stanno urlando i vostri glutei mi senti o no dimmi che non è una figata di fare un lavoro aerobico mentre stai facendo un lavoro gag è pazzesco andiamo quattro tre due piccola knee and stendo 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 quattro come on come on e vado four three two cerchio gira gira vai 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 ci siamo yeah yeah quattro tre due ed uno ok liberi le gambe io adoro le adoro l'intensity perché è un lavoro total body coreografico appunto giusto che ci fa fare tutto adesso facciamo tutto in volo tutto quattro quattro tre due uno quattro quattro vuole con le gambe perché dobbiamo scaricare la cellulattica quattro ci schiudo quattro quattro occhio due avanti due indietro due come on due giro di destra gambe 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 liberati l'ultima volta è questa due 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 giriamo due due occhio dammi quattro jumping quattro chiudo gambe come on quattro più lo spingi più lavori con le gambe più draini chiudo vado siamo pronti per surfare quattro facciamo quattro tre due uno quattro ancora quattro come on quattro dammi due tre volte up due volte up ultima volta up quattro 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 come on come on quattro one more one more quattro ottima quattro and surf quattro four three two one up ancora four three two one up dammi due tre volte due up due up torno in centro e uno due tre piante però spinta 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 non saltare qua qui puoi saltare knee up no appoggio e spinta 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 volo destra vai uso le gambe 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 ancora quattro tre due l'altra gamba è quasi finita quattro tre appoggio non salto push spingo 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 quattro tre due knee up push però non salto con le gambe avanti e gira gira abbiamo quasi fatto ci siamo ci siamo it's otto sette sei cinque quattro tre due and relax eccellente ragazzi ok porta da poco proprio più giù respirate prendete anche una goccitina d'acqua passo poco la musica perché adesso dobbiamo andare a lavorare su le gambe gambe e glutei non ti preoccupare ho promesso che noi alleneremo tutto stasera avrete già sentito quanto avete lavorato gambe e glutei e braccia avete visto le braccia quando hanno lavorato ok per darvi un piccolo ricubro andiamo a lavorare sulle nostre braccia e sui tricipiti l'elastico passa dietro il collo vedi io ho le mie trecce e le lascio le trecce là perché mi fanno una sorta di protezione per il collo ok potete anche mettere se volete magari un sciogamano sul collo però la verità è che devono passare sopra la clavicola come spessore i gomiti sono chiusi l'avambraccio si stende stende ok guardami vai vai vedi vai 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 gomiti alti 8 però continui a saltare sul trampolino vai 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 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 braccia tese su 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 continui spingo faci il più tesi possibile più tesi possibile più tesi possibile mi raccomando ancora ultima 4 3 2 relax prendi l'elastico lascia la sinistra che va sopra braccio sinistro che va sopra guarda qua braccio sinistro sopra la testa braccio destra l'ancora non si muove più braccio destra è bloccato sopra le mie natiche perché è molto importante anche l'ancora se è troppo facile non voglio mai vedere l'elastico così l'accorcio se mi serve più intensa e non lasciare mai che si riposa l'elastico ci siamo saltando sempre it's 5 6 e andiamo 8 7 6 rimango su e salto 8 7 6 non si muove le braccio adesso braccio fermo le gambe possono andare come vuoi come vuoi di nuovo su e giù stendo 3 4 rimango su salta 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 come ti viene 4 3 piego stendo di nuovo 8 7 6 5 4 3 2 rimango su 8 7 6 5 5 5 ultima 4 3 2 relax occhio non muovere quel braccio sinistro libero la destra passo sopra rianco da sotto prendo sotto prendo sotto con l'elastico blocco sul gluteo l'unico braccio che si muove è l'abbraccio destra e 8 7 state saltando sempre ok 4 3 2 salta rimango su 8 7 6 5 4 3 piego il braccio stenzione 8 7 6 5 4 3 rimango su salta perché mi piace il trampolino anche qua noi facciamo le braccia comunque stiamo facendo un lavoro bruci grassi perché stiamo saltando sempre 8 7 6 5 4 3 2 rimango su ultimo 8 8 7 6 5 4 3 2 and relax di nuovo lascia il braccio sinistro da sotto mai fare i movimenti strani delle spalle sempre passando per centro ok stendete il braccio destro in avanti e accorciate l'elastico fino ad avere una bella presa bicipidi 2 provi a toccare i bicipidi toccati le spalle con il pugno tira tira 8 7 6 5 4 3 tira tira salta salta ottieni isometria vai 4 3 2 ancora vai 8 7 6 5 4 3 rimani su isometria 8 7 6 5 intensity adoro questa lezione e ultimo 8 7 come on gruntose 4 3 2 rimango 8 7 6 5 4 3 2 and relax e che noi spesso lavoriamo gambe, grunti, abdominali le braccia sono importanti anche loro andiamo su 8 8 7 6 5 4 3 2 rimango qua salta salta 8 7 6 5 come on ancora di nuovo andiamo e 8 7 6 5 4 3 2 isometria rimango ci sto 8 7 6 5 4 3 2 di nuovo vai 8 7 6 5 4 3 2 rimango 8 7 6 5 4 3 2 relax l'avete sentito il lavoro? ok andiamo a lavorare sulla parte posteriori della spalla abbiamo lavorato già sui pettorali durante la nostra coreografia calpistiamo l'elastico calpistiamo l'elastico ho trovato una bella presa piegheremo le gambe è molto importante piegare le gambe ok rimanete giù i gomiti vanno in linea con le spalle su and su ok non posso saltare qua posso spingere però spingo 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 i gomiti sono in linea con le spalle così da una bellissima décolleté una bellissima spalla bella schiena 8 7 6 5 4 3 rimango su salta salta tengo tengo 2 3 4 5 6 6 7 7 di nuovo 8 7 quanto state sudando? ditemi quanto è soddisfacente sudare e poi c'è la doccia ancora 8 7 6 5 4 3 8 8 ci siamo passiamo sui glutei esterno cosce abdominale promesso 4 3 2 rimango su 8 7 6 5 4 3 2 and relax ok piega libera l'elastico rilega per favore le vostre caviglie con un bel fiocchetto il fiocco ok ci siamo ok marcia marcia ok mentre stiamo marciando ripassiamo come utilizzare l'elastico l'elastico deve essere sempre teso se lo senti che non riesce però neanche troppo teso non è che non devi essere in grado di aprire le gambe devi trovare quella giusta tensione che sente il lavoro ma che ti permette comunque di muovere le gambe 8 7 il mio consiglio per l'elastico è sempre 0,5 mm c'è anche 0,35 che è quello più leggero e poi quello 0,65 è un po' troppo è un po' troppo rigido 0,50 secondo me portatevi tutti ci siamo? ok facciamo passi da granchio 2 3 4 marcia 5 6 7 and granchio 2 vi piace la nostra intensità? mi mandate i messaggi se vi piace o no perché hai visto che fa tutto marcia marcia andiamo 4 3 2 and lavorando glutei braccia petturali schiena ma non smettiamo mai di lavorare salta salta indietro 4 3 2 salta salta 4 3 2 di nuovo avanti 2 salta 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 4 3 2 indietro 4 3 2 salta salta 4 3 ok portami la gamba destra in avanti diagonale con la sinistra spingo indietro e provo di lavorare in diagonale ok piedi sono ora 11 ora 2 l'1 l'1 l'2 e dall'altra parte ora 7 ok tira 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 8 7 schiacci il gluteo ancora 4 3 occhio andiamo laterale 8 7 6 5 4 3 2 ancora ancora 8 7 grandi sorrisi dai perché stiamo facendo un lavoro meraviglioso per la prova costume and relax vatti 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 ti aiuti con l'accelo lattico prepara l'altra gamba la sinistra viene in avanti sulla banda la banda è gialla arancione non so quale o bianca quelle che hai a casa diagonale ora 2 ora 7 8 7 6 5 tira e prova quando arriva la fine della corsa di dare un colpetto sul gluteo che schiaccia 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 ancora facciamo 8 7 6 ancora ancora occhio andiamo laterale vado va tira lo senti senti come infiamma tutto il lato dell'esterno coscia tensore fascia lata gluteus minimus medius vai 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 datemi altro 8 7 6 5 4 3 2 1 ci piace il gluteo così ok ragazzi liberate l'elastico provando ovviamente di non inciampare con l'elastico ma non non lo lanciate perché ci serve ancora passate indietro il vostro trampolino mi porto il mio trampolino poco poco in avanti vediamo se riesco a rimanere nell'inquadratura ok andiamo a sollevarci e scendere allora spingo sul talone e questo mi aiuta a sollevarmi ma il talone frontale aspetta mi giro così e noi facciamo uno e scendiamo piccolino piccolino si chiama giaguarino sollevo come pensi di un gatto che sta saltando però dà la gamba anteriore gamba destra che mi lancia e che mi raccoglie non usiamo le gambe posteriore guarda intorno a te per essere sicura che non c'è niente che ti potrebbe fare inciampare o boittire d'acqua giocata dei nostri figli ci siamo pronti facciamo 8 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax cambia gamba questo è uno degli esercizi più temuti di di power di total body perché è molto impegnativo 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 stop ok lasciamo che le gambe ricuperino poco poco ragazzi vi piego vi chiedo di piegare le gambe metti le mani sulla stuoia porti il petto tra le mani e state spingendo giù spingo 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 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 and relax ok oggi abbiamo lavorato la parte superiore del corpo le gambe e in questo modo possiamo veramente avere un allenamento molto completo per le gambe e per i glutei adesso andiamo a fare un piccolo jump squat jump e scendo che non è un jump squat priometrico classico ma assistito scendo assistito scendo piccola spinta e poi a fondo sui taloni guarda ti faccio vedere assistito scendo assistito scendo ci siamo? andiamo per 12 la prima è una piccola assistito 5 6 7 8 assistito 1 assistito 2 scendo giù sui taloni 4 scendo giù bussano avanti 6 7 8 ci mancano 4 9 10 11 12 scendo giù ok portatevi in giù io vado poco indietro perché adesso lavoriamo di nuovo sulla braccia le punte delle dita sono rivolte verso le vostre ginocchia o verso le vostre taloni spalle indietro mi giro poco a poco per farti vedere sono indietro le braccia sono piegate e spingo su le braccia le braccia sono piegate le braccia che sollege il lavoro non è sedere non è che sto saltando di sedere no io sto spingendo di braccia anche se il sedere sta sulla stuoia spingo 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 ancora 4 3 2 1 ancora 8 7 6 5 4 3 2 su 8 7 6 5 4 3 2 and relax ok se ti senti dolore sui polsi ragazzi polsi sono molto delicati anche quando fate fluid spesso avete problemi di questi polsi ok guardami le mani guardami le mani metti le mani la mano destra su e l'avambraccio sinistro e muove le mani e senti tutti questi muscoli sul braccio ok che aiutano sono gli estensori delle dita che ci aiutano a muovere le mani perché le mani non hanno tanto spazio per mettere tutto questo muscolatore che ci dà la destrità no perché tu facciamo tante cose con le dita anche molto precisi così per voi abbassa e inalzare le palmi ok giù dorso della mano palma della mano dorso della mano palma della mano dorso della mano palma della mano e se fai questa velocemente senti come ti stancano molto velocemente i polsi facciamo ancora 4 3 2 e 1 ma se lo faccio 10 volte al giorno piano piano vedrai che i fluid non ti dà più fastidio sui polsi e ne farei lavoro come abbiamo appena fatto per i tricipiti sulle nostre trampolino ok facciamo di nuovo 12 per favore di squat assistito diciamo assistito e poi a fondo 5 6 7 assistito 1 e 2 e 3 e 4 e 5 6 7 8 9 10 ci vengono 2 2 e 1 vai ok non vi faccio utilizzare altre le braccia perché abbiamo stancato anche i polsi però ricordate su e giù su e giù su e giù con le mani e vedrai come i polsi diventano più forti e poi aprire i barattoli senza problemi scendete giù prendete l'elastico legate per favore le cariglie e stendiamo le gambe in su stendendo le gambe in su ok mettete anche se volete una mano dietro la testa ricordate che quando siamo sdraiati io ho un microfono no non ce l'ho la colana però ho i capelli e si possono essere aggrappati dai ganci o dalle mole stesse strappare i capelli così trattieni qualunque cosa che pensola dietro il collo e cominciamo a spingere 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 vai 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 schiaccia schiaccia 8 7 6 5 4 3 2 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 piccolo salto così lavori anche gli addominali 2 3 4 5 6 7 8 e su con le ginocchia su con le spalle 8 7 6 5 4 3 2 2 1 ancora 8 7 6 5 4 abdominali ancora porti su le spalle 8 7 6 5 4 3 2 5 senti come si lavora tutto mi piace intensity con trappolino elastico ragazzi c'ho 20 una mini palestra in casa ok di nuovo solo la gappe vado fuori vado fuori 8 7 6 5 4 3 2 1 8 6 5 4 3 2 1 vola 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 spalle 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 relax eccellente ok prendiamo il nostro elastico lo mettiamo intorno alle nostre ginocchia adesso e scendiamo proprio un po' fuori dal nostro trampolino il braccio sinistro sta fuori dal trampolino il ginocchio destro è rivolto verso il soffitto e l'ancora è quello sotto quello che lavora è quello superiore andiamo 8 7 6 5 esterno coscia ancora corto ginocchio in avanti 2 3 4 5 6 7 4 su andiamo 4 3 2 4 avanti 4 3 2 2 su 2 1 2 in avanti 2 avanti 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 18 18 19 20 21 20 23 24 24 23 24 Avanti e 4, 3, 2, 2 su, 2 su, 2 avanti, ancora, 2 su, 2 avanti, 5 di ora, vado, su, avanti, su, avanti, su, ultima, 4, 3, 2 e 1. Allora oggi se non avete sentito l'esterno coscia e i glutei, rinuncio, non ci riesco a fare il mio lavoro, è stato bello, ok, ci siamo, però voglio fare ancora un po' di addominali prima di fare lo stretching finale, scendiamo giù, eccoci qua, chiudo qua, così ho spazio per le gambe, ok. Ok, andiamo qua a semplicemente fare un piccolo bounce, chiudo, 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 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi destra, destra e cambio, 4. Bicicletta ragazzi, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, singolo, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 3, 2, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Bravi ragazzi, ricordate che se volete fare più addominali, potete fare dopo sotto la sezione di allenamenti singoli, se volete fare più stretching o meditazione, c'è fluid, stretching, la meditazione secondo me è anche molto importante per buttarti via tutto lo stress della giornata. Ok, portate le gambe su, stendete, la potete prendere dietro il polpaccio o dietro le ginocchia, stendi su, respiro semplicemente, divarica le gambe senza strappare. Senti soltanto come il peso delle gambe ti aiuta a aprirle anche, respira. Che bello l'allenamento di chiudere le gambe, portami su e prendo dietro le mie ginocchia, attenzione che nulla è aggrappato alle molle, portate le mani sul telaio, portate indietro le spalle, donna la destra e sinistra fino a sentire lo stretch. Senti soltanto come l'allenamento di chiudere le gambe, portate indietro, allunga le gambe di fronte a voi, inspiro e poi aspiro giù. e poi aspiro giù che fa a passare. Le gambe vengono sotto, i fianchi, sempre con una presa su il vostro telaio. il laio, piega e viene su, affonda i taloni, piega le gambe, viene su, fermati, blocco la musica, che non voglio cambiare il ritmo, mi è piaciuto molto il ritmo lento, inspira su, tira, 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 postati a sinistra, tira su, a destra, ventola su, incrocia le mani, tiri dentro la pancia, alleni ai fianchi, sentiti tutto, dritta, dritta, dritta e apri le braccia, grazie davvero di questo meraviglioso allenamento fatto insieme, intensity, mi piace da morire perché è veramente intenso da una parte ma ci ha dato tutto, spalle, pettorali, vicipiti, tricipiti, esternocoscia, glutei, abdominali, abbiamo fatto un po' di tutto in un contesto aerobico bruciando un sacco di calorie e spero che vi siate divertiti e passate un weekend molto speciale, ci vediamo lunedì prossimo con un altro live, no lunedì prossimo no scusami, lunedì prossimo c'è una diretta in contemporanea a HS24, se non sbaglio siamo martedì prossimo perché lunedì sarò in contemporanea su HS24, su canale 37, 137, 237, 537 e su aliexpress.com, e-commerce online, novità questa cosa per due ore di live dalle 5 alle 19, giusto? Dalle 5, 17 alle 19, due ore di diretta, una novità totale, sono super onerata di fare questa nuova impresa con HS24. Comunque grazie ragazzi, iscrivetemi, fatemi sapere come sta andando il vostro percorso personale perché l'allenamento ci dà forza, ci dà controllo sulla nostra vita, ci aiuta a proporci con più autostima e ti posso garantire che quando tu ti rispetti di più, le persone ti rispetteranno così, di più. Baci dalle G, passate una serata meravigliosa, ci vediamo presto, ciao!